Per me è un'ispirazione che si trova in un'esercizionale, ma se si guarda bene, è tutto tutto. Il dettaglio che mi ha colpito maggiormente era il design della griglia frontale dell'auto, perché aveva questo intrigo di linee. Quando questo questo sloge, mi ha scoperto di scoperto di prezontaggio di incontro di scoperto di scoperto. Certo che ho potuto fare in un'eserciza di più, che in mio vita abbia più alcuni dei loro altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.